Ritorniamo su un nostro pallino. I sette comuni litoranei della fascia salentina della provincia di Taranto non possono che coordinarsi e comprendere che il turismo per diventare davvero economia vincente e ridistribuita deve assumere una postura di tipo industriale. Mi spiego meglio. Infrastrutture, professionalità e competenze, marketing del territorio verso gli hub decisionali delle correnti turistiche. Se è vero come è vero che il bacino del Mediterraneo resta tra le mete più ambite dal turismo internazionale si può comprendere fino in fondo che la competizione all'interno dello stesso sia davvero agguerrita. Ma il salento tutto può giocare la carta unica di un retroterra assolutamente variegato e interessante dove storia, angoli naturistici, enogastronomia di qualità e cultura dell'accoglienza rappresentano il valore aggiunto di un'offerta turistica che non è solo mare, sabbia e pinete costiere. In questo senso l'unione dei comuni terre del mare e del sole sta provvedendo da tempo a collegare i comuni litorani con quelli dell'entroterra in una serie di iniziative mirate proprio a connettere i diversi aspetti che possono agevolare il soggiorno dei turisti e su questi aspetti ritorneremo. Qui ora ci piace sottolineare che già su un tema si potrebbe lavorare sulla litoranea salentina, il conseguimento di una bandiera blu litoranea che mette assieme le fantastiche spiagge che vanno da Capo San Vito a Punta Prosciutto per colorare un impegno serio per un turismo innovativo e sostenibile.